Queste erano, in mezzo ai rifiuti, ce n'erano tantissime, tantissime foto di almeno quasi 100 anni fa, se non 100 anni fa. Questa è del 24. Emanuela è una volontaria che si prende cura di Roma. Armata di guanti e buona volontà, nel tempo libero ripulisce le strade della capitale. La scorsa settimana, tra i rifiuti accumulati in questo sottopassaggio della via Salaria, ha trovato un vero e proprio tesoro. Un album fotografico di un secolo fa, scatti in bianco e nero della vita di una tale Matilde. Roma, 11 febbraio del 17. Ai miei cari zii, in segno di puro affetto, vostra nipote Tilde. Eccola. Ma la sorpresa non è finita. Poco più in là, a ripulire le sponde del fiume Aniene da una discarica abusiva, ci sono altri volontari e tra i rifiuti vengono fuori altri ricordi. Queste sono foto di album, ore furtive o svuotacantine che prendono e buttano in questi posti. Alla mia indimenticabile sorella Rosina, offre con infinito e costante affetto Giuseppina e Giuseppe Siragusa, 1917, il 26 febbraio. Pensate, è quasi l'anniversario.